Il prete c'è? Benissimo, l'importante è che ci sia la sposa. Le spose. Ho bisogno di che mi aiuti. Per favore, non chiamarmi più. Ma è sua sorella? Sorellastra. Non ci vediamo da anni. Marcello, sta per arrivare un nuovo capitano. Cerchi di fare buona impressione. Forse anche con gli altri capitani all'inizio non era semplice, no? Lei usi la sua arma migliore. La pistola, gli spada? Viva gli sposi! Don Matteo, i nuovi episodi. Prossimamente su Rai 1. Grazie a tutti.